Ciao, vai al matrimonio? Di mia sorella? Sì, è ovvio. Dov'è tuo fidanzato? È lui? Ehi, sono Ben. Il diversivo mentre eravate in pausa. Sei davvero un ragazzino. Sarà un volo lungo. Vuoi niente dalla prima classe? Non ho bisogno di creatina o prestazioni scarse. Non c'è niente di scarso in me. Ma che? È lo stronzo con cui è stata Bea quando era in pausa con Jonathan. Non potrei mai stare con uno così. Quella ragazza è un disastro. Ferma! Rovineranno il matrimonio. Scusate. Quanto tempo! Chi è? È quella che gli ha spezzato il cuore. Quell'uomo non ha un cuore. Non ci credo. Casaro, guarda chi c'è! Chi è? Il mio ex, Jonathan. I miei stanno cercando di farci tornare insieme. È come un figlio per noi. Forse dovremmo dire a tutti che stiamo insieme. Cosa? Risolverebbe il mio problema. E visto che tu vuoi Margaret, se ti vede con me, vorrà quello che non può avere. Non convinceremo mai nessuno che ci piacciamo davvero. Penso alla notte che abbiamo trascorso insieme. Sta zitta. Sono seria. Non importa come sia finita. È stata meravigliosa. Abbastanza convincente? Ci sto. Tesoro, è arrivato. Oh no, io sto con Ben. Ci siamo appena messi insieme o eravamo amanti? Cerchiamo solo di essere affettuosi. Si va in scena. Permesso di piazzare mano sinistra su un'attica destra? Accordato. Non è una lampada magica. Ehi, piccolino. Oh no, maledizione. Dobbiamo alzare l'asticella. Bel tocco. Bel vestito. No, no, aspetta. Si può sapere quando imparerai. Fuck it, it's fine. A prua con me. Ci guardano? Fanno come in Titanic. Sono andato, è finito lo show. Oh mio Dio! Hai un Neo sul sedere per caso? No. Oh che cazzo! Perché? Perché? Potresti avercelo anche tu. Tutto a posto. Forse potevo controllare anch'io così. Che ci siamo persi? Che ci siamo persi. Fuck it, it's fine.